Benvenuti ragazzi, sono Cure e oggi siamo tornati in un nuovo video di sponsorizzazioni In questo episodio andremo subito a partire, ma subito con le sponsorizzazioni ragazzi Allora nel primo, anch'io sono stato sponsorizzato molto in questo mio percorso sul tubo In questo primo episodio andremo a sponsorizzare Gamer Pro Gamer Pro ha un canale, è iscritto su Youtube, è iscritto a Youtube dal, vediamo se intanto ho carica grazie Dal 15 agosto 2015, quindi diciamo abbastanza recente, ha 97 iscritti e 691 visualizzazioni Comunque è un canale molto ricco di contenuti ragazzi, vi invito a passare da lui perché fa cose molto brave Fa GTA come potete vedere, GTA sempre, Mod quindi abbastanza figo Funny Moments, Agario, comunque è un canale abbastanza buono, sta crescendo Poi il prossimo canale da sponsorizzare è... ok ragazzi, il prossimo canale da sponsorizzare è Tony Lascheggia Tony Lascheggia ha un canale che è... lui è iscritto a Youtube dal... primo maggio del 2014 Quindi è molto su Youtube, cioè molto diciamo abbastanza Ha 53 iscritti e 225 visualizzazioni Adesso andiamo subito a vedere i contenuti che ci porta il grandissimo Tony Che comunque, da qualche video che ho visto fa cose molto carine a mio parere Far Cry 3, fa Spec Ops The Line No, 3, 3, 3, si Si, Spec Ops The Line GTA 5, Tomb Raider, Batman E tante, 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 GTA Tantissime, tantissime cose comunque ragazzi È un canale molto, molto, molto vasto Secondo me meriterebbe anche più iscritti Passate da Tony Lascheggia Terzo canale da sponsorizzare in questa... in quest'oggi è... Ok ragazzi, terzo canale da sponsorizzare È The Dark Gamers Non fate caso a questa notifica qua che poi la guarderò The Dark Gamers si sono iscritti a Youtube circa... vediamo un attimo quando esattamente Il 29 giugno 2015 Quindi anche loro abbastanza recentemente Hanno 62 iscritti e 741 visualizzazioni totali Quindi molto, molto buono Adesso andiamo a vedere un attimo i contenuti che ci porta questo... questo fantastico canale Andiamo subito a vedere Dai, tu, carica, non fai il cazzone Ok, eh... vi portano Crash of Lens Minecraft, eh... Pocket Edition Pocket Edition Simpsons Episodio 1 Springfield Minecraft, Minecraft Tanti episodi di Minecraft Quindi anche loro sono molto concentrati su Minecraft Passati da The Dark Gamers ragazzi Il quarto ad essere sponsorizzato è... Il quarto che ho scelto di sponsorizzare oggi è Greto Clash of Clans Ita Perché fa dei video molto, molto interessanti Vedete qua, primo clan a livello 9 al mondo E vediamo un attimo Greto da quanto è iscritto su Youtube Il 22 maggio 2015 139 iscritti e 3.113 visualizzazioni Quindi molto, molto buono È iscritto anche da poco lui 139 iscritti sono abbastanza buoni Dai, anche dei visualizzazioni sono molto, molto buoni Ho visto che fa parecchi vlog Ho fatto Call of Duty Advanced Warfare Ho fatto... Minecraft Pocket Edition Boom Beach Clash of Clans Un po' come facciamo io una volta Geometry Dash, eccetera, eccetera Quindi... È un ottimo canale a mio parere E passate da Greto C-O-C-I-T-A Il quinto canale ultimo da sponsorizzare per oggi è... Il canale da sponsorizzare, l'ultimo ragazzi L'ultimo canale da sponsorizzare oggi è Gli Sti Cazzi È un po' difficile da pronunciare Gli Sti Cazzi sono... Fra Alex e Sebi in particolare Sono due E sono iscritti a Youtube dal 12 aprile 2015 Quindi hanno... Hanno anche il... Hanno più iscritti di me E io li sto sponsorizzando È una cosa molto strana 426 iscritti 6.896 visualizzazioni Quindi molto, molto buono Andiamo a vedere subito i contenuti che portano Gli Sti Cazzi Portano Super Meat Boy Portano FIFA Minecraft Survival La serie principale, suppongo Ehm... Guarda di cieco quindi Call of Duty 2.0 Advanced Warfare GTA Quindi molti... Molto, molto... Diciamo, molto, molto vasto come canale Ok ragazzi Siamo arrivati anche al termine di questo video Io spero che il video vi sia piaciuto In questo caso Ehm... Perché mi devo perdere sempre alla fine Comunque ragazzi Per essere sponsorizzati Vi ricordo Dovete mettere mi piace Alla pagina Facebook Iscrivetevi al canale Mettete mi piace Alli ultimi due video Che ho pubblicato Ehm... E niente Poi sotto sotto Scrivete nei commenti Hashtag mi sponsorizzi E io vi sponsorizzerò Ovviamente tranquilli ragazzi Quelli che non sono stati sponsorizzati oggi Verranno sponsorizzati Nel prossimo episodio Qui ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate, iscrivetevi Passate la pagina Facebook Alla prossimo video